Grazie a tutti. Intanto il DS Natale ha rinnovato in pratica il maxi-accordo con il Vicenza che riguarda diversi giovani tra cui Forò, Pomiro, Gentil ed altri, ma non ha trovato invece l'accordo con il Sassuolo per Titone, quindi si andrà alle buste per l'esterno rosso-blu. Il Cesena non vuol più Ferrini che rimarrà quindi nella Samb così come i vari Dazzi, Alteri, Marconato, Tinazzi, Moi eccetera. Per quest'ultimo, parliamo di Moi, c'è il forte interesse di una squadra di prima divisione, ma la cosa più importante è ovviamente l'iscrizione della Samb che scade il 30 giugno prossimo con relativa fiduzione da 100.000 euro. E Sergio Spina? Lui ormai appare davvero lontano dalle sorti della Samb, almeno da quella che è ancora nelle mani dei tormenti. I giorni turbolenti e febbrili per la squadra di Verasca insomma continuano, inesorabilmente, tra chiacchiere e tentativi e la città non sa più se sperare o rassegnarsi.